Buona domenica dalla redazione della Tg della Mobilità. Oggi per un intervento sulla rete aerea in via Flaminia, all'altezza di Piazzale della Marina, i tram della linea 2 saranno sostituiti da bus navetta per tutto il giorno lungo l'intero percorso. I tram della linea 19, invece provenienti da Piazzale dei Gerani, limiteranno le corse a Valle Giulia. Da Valle Giulia a Piazza Risorgimento è previsto un servizio di bus sostitutivi. A Centocelle, invece, oggi è in programma un evento culturale in via dei Castani. La strada sarà chiusa al traffico da Via dei Glicini a Piazza San Felice da Cantalice. Saranno deviate le bus della zona, temporaneamente disattivate, 10 fermate.